Il nostro diritto è di studiare, di trovare un lavoro, ma in queste situazioni non si riesce a continuare. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto della provincia per mettere a posto Santa Marta e continuare gli studi. Perché ti piace questa scuola, l'hai scelta, quindi ci credi. Cosa stai facendo, che corso fai? Io devo rifare la seconda, ma ho intenzione di fare pasticceria e avere una pasticceria di mia condotta. Il problema è che i ragazzi il 14 settembre non iniziano la scuola, quindi è venuto a mancare anche un diritto ad essere a scuola, è venuto a mancare un dovere dello Stato e un diritto anche dei genitori a mandare i propri figli in una struttura sicura. Quindi siccome le scuole sono la seconda casa dei nostri figli, è opportuno che qualcuno si muova e garantisca la sicurezza dei nostri figli. Perché questo è fondamentale, la sicurezza dei nostri figli. Quindi lo Stato non si può lavare le mani, la regione non si può lavare le mani, la provincia non si può lavare le mani, il sindaco non si può lavare le mani. Perché i giovani sono il futuro dell'Italia. Noi pretendiamo come genitori la sicurezza all'interno delle scuole, ma in tutte le scuole d'Italia, perché gli ho fatto presenti tutti i casi che sono accaduti in Italia, dei ragazzi morti all'interno delle scuole. E questo è assurdo, che io genitore mando mio figlio a scuola e so che la sera non mi può tornare, il pomeriggio non mi può tornare a scuola. A me vengono i brividi, solo il pensiero. Occuperete la nazionale? Taglieremo il percorso, sarà fatto sulla nazionale, quindi un po' la occuperemo e poi man mano andremo verso Piazza del Popolo. Noi non vogliamo creare disagi ai cittadini e ai lavoratori, però è giusto che la gente si sensibilizza e incomincia a capire che il problema delle scuole è fondamentale, il diritto al studio è fondamentale, il futuro dei nostri ragazzi è fondamentale. Se non puntiamo su questo, cosa facciamo?